Top al caporalato e al lavoro nero nelle campagne pugliesi è il duplice obiettivo che la regiona intende raggiungere con due provvedimenti unici in Italia. Ha previsto la nascita di elenchi di prenotazione in agricoltura e contributi per le aziende che assumeranno dai suddetti elenchi. Il nostro tentativo è quello innanzitutto di interrompere la pratica dolorosa ed antica del ricorso al caporale per l'intermediazione domanda offerta lavoro attraverso l'istituzione delle liste di prenotazione presso i centri pubblici territoriali per l'impiego dai quali il sistema di impresa potrà attingere individuando liberamente il lavoratore la mano d'opera che ritiene indispensabile per quella fase lavorativa. A queste aziende noi attribuiremo risorse pari a 200 euro al lavoratore assunto per un massimo di 5.000 euro in un periodo non inferiore a tre annualità. Lei ha detto cerchiamo di rendere conveniente la legalità. Sì, la legalità non può essere una predica perché non è possibile che la legalità si fa con le omelie e poi l'illegalità produce delle straordinarie ricchezze illecite. Bisogna rendere conveniente la legalità. Noi vogliamo premiare tutte le imprese che operano nella legalità e vogliamo penalizzare fortemente tutte le imprese che non solo feriscono i diritti e l'umanità delle persone ma che feriscono anche le regole della concorrenza.